è stato arrestato due volte per percosse e lesioni aggravate tre stelle michelin è diventato celebre anni fa grazie al ristorante il melampo timo maggiorana pepe nero cipolla porca puttana li hai accettati tutti alla patente è il foglio roca sono ragazzi con sindrome di asperger ditemi gli ingredienti che ho usato il pollo è una zuppa di pesce a me il pesce fa cagare di la verità se anche tu hai servizi social no guarda che qui l'unico criminale sei tu marione mi garantisce che sei uno apposta si tratta di un lavoro a tempo determinato determinato quanto i ristoranti si aprono e si giudano io voglio andare al concorso ci andrai al concorso e farai del tuo meglio va bene però adesso apri sta porta partiamo mercoledì alle 15 e 30 d'accordo ma partiamo chi se vinco lo stage mi pagano mi compro la macchina e trovo una fidanzata è automatico vinci lo stage e vince anche la fidanzata si papà ti presento guido piacere però tu adesso mi devi dire qualcosa del tuo di padre si arrabbiava sempre con me e lo sapeva che tu sei asperger no lui pensava che ero scena secondo te le piaccio parte che ti vestiti di merda se un bel ragazzetto non t'ho sentito full power trafiche in aumento una macchina sola con calma trafiche in aumento arturo guido e basta ecco quanto basta basta così tra il finale tra il finale tra il finale tra il finale Grazie a tutti.